Come aumentare la durata del tuo lubro refrigerante? Ci sono cinque aspetti critici da considerare. 1. Filtrare il lubro refrigerante garantisce la presenza di meno sporco al suo interno, diminuendo la possibilità di contaminazione. 2. Mantenere il livello del lubro refrigerante il più alto possibile. Maggiore sarà la quantità di lubro refrigerante, più performante sarà l'impianto. 3. Eliminare tutte le fluttuazioni nella concentrazione. Mantenerla all'interno di valori ottimali garantisce anche risultati più ripetibili e affidabili. 4. Eliminare il ristagnamento. È molto importante mantenere il lubro refrigerante in movimento. In questo modo non può rimanere isolato da olio o altri detriti in superficie. 5. Cerca di eliminare gli shock termici. Non sono positivi per la durata del lubro refrigerante?